Il sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri, ha disposto con l'ordinanza numero 59 del 4 novembre la chiusura dei luoghi di aggregazione su tutto il territorio comunale. Chiudono al fine di contenere il contagio e in linea con quanto definito dall'ultimo DPCM del 3 novembre il parco comunale attrezzato ad area giochi per bambini di Villa Matarazzo, il Castello dell'Abate con le mostre al suo interno, i locali adibiti a centri di aggregazione comunale con la Sala Fierro di San Marco e la Sala Monsignor Farina del Capoluogo, il Centro di Socializzazione Anziani, tutti fino al prossimo 3 dicembre. Il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri dichiara in merito al provvedimento bisogna evitare il più possibile il concentramento delle persone in uno stesso luogo come abbiamo nostro malgrado imparato a fare in queste delicate fasi di emergenza. Viste le recenti disposizioni in merito ho quindi subito emanato un'ordinanza prevedendo la chiusura preventiva di tutti i luoghi di aggregazione comunali.